Hola hola, facciamo una routine con le microcorrenti. Prima puliamo il viso e dopo applichiamo il gel conduttore che ci servirà a veicolare le microcorrenti. Adesso utilizziamo il foreover che lo possiamo programmare manualmente o con l'applicazione del cellulare. E seguiamo le linee. Vedete che quando va in giù i muscoli del viso non va bene. Dobbiamo cercare che vada in su per vincere la gravità. Ma attenzione all'intensità dell'apparato perché se mettete troppa intensità vedete che si piega e si accentua il sol con il naso labiale. Così non va bene. Utilizzate intensità più base. E poi per esempio anche qua se va in giù non va bene. Cercate che sempre lavorino i muscoli che tirano il viso in su. Anche l'orbicolare dell'occhio. Se vedete che si chiude l'occhio, no, dovete scegliere un'intensità più bassa. Qua va benissimo per sollevare la coda del sopracciglio e anche per tonificare il collo. Qua va benissimo per sollevare la coda del sopracciglio e anche per tonificare il collo.